Il comune di Sala Consilina è pronto a sostenere le attività commerciali e produttive. Misure eccezionali sono state preannunciate nei giorni scorsi dal sindaco Francesco Cavallone e dal delegato al commercio e alle attività produttive Vincenzo Garofalo. Comporteranno un carico per le casse comunali di oltre 210 mila euro che si traduce in un alleggerimento dei tributi locali per chi ha subito notevoli danni a causa dell'emergenza. Misure individuate condividendo le istanze dei commercianti e degli imprenditori dicono dal comune. Con riferimento alla Tari verrà riconosciuto alle micro imprese e ai titolari di reddito di arte o professione una riduzione della tariffa per metri quadrati rapportata ai giorni di chiusura autocertificati e differenziata a seconda che si sia in regola o meno con i versamenti tributari. Sarà concesso un comodo pagamento a rate fino al 16 marzo 2021. Riguardo alla TOSAP per le concessioni e autorizzazioni rilasciate dal primo maggio è prevista la totale esenzione se il pagamento invece era già previsto per lo scorso mese di gennaio slitta ora al 31 dicembre mentre per i pagamenti già effettuati c'è l'esenzione con compensazione per la tassa 2021 pari al periodo di sospensione dell'attività. Riconosciuto inoltre alle micro imprese ed esercenti di arti o professioni un credito di imposta del 50 per cento delle spese sostenute documentate per sanificazione dispositivi di protezione individuale modalità d'ingresso in azienda da un minimo di 100 a un massimo di 300 euro da utilizzare quale contributo per compensare i debiti tributari 2020. Si hanno subito una riduzione del volume di affari di almeno un terzo nei mesi di marzo e aprile rispetto agli stessi mesi dello scorso anno e si hanno percepito un reddito di imposta 2018 uguale o inferiore a 25 mila euro. Con riferimento all'Imu nella potestà del comune quindi non sugli immobili produttivi il pagamento dell'acconto passa dal 16 giugno al 16 luglio a condizione che venga autodichiarata una diminuzione del reddito da lavoro dipendente nei mesi di marzo e aprile di almeno il 20 per cento rispetto ai mesi di gennaio e febbraio o che si sia titolari di un'attività economica sospesa. Per quanto riguarda il saldo sarà concessa la possibilità di rateizzare il pagamento in tre rate mensili.